Si è svolta con grande successo la Kermess di tre giorni dedicata alle magnifiche decadi che hanno fatto la storia. Stiamo parlando del party vintage di Marina di Montemarciano, un tuffo negli anni 70-80 vestiti a tema auto e moto. Tantissima gente, una serata Revival Baboon dove ricordiamo questo mitico locale. Passeranno diversi filmati ricordando la televisione, la dance degli anni 70-80, ma anche episodi di cronaca, quindi grandi soddisfazioni. Musica live e DJ set, tutto dedicato ai mitici anni 70-80. Il Baboon è stato uno dei locali storici della riviera adriatica, periodo che io e Bruno Gemini lavoravamo sia a Radio Galassia che al Baboon. L'associazione Mi Piace, Marina e Monte con il patrocinio del Comune di Montemarciano ha realizzato un'edizione davvero scoppiettante dalla fortunata e seguita trasmissione flashback di Radio Arancia con i DJ Gigi Obrecciaroli, Paperino, Davide Domenella e Claudio Ricotti. Special Remember Baboon con DJ Alex Bedin e Bruno Gemini e i protagonisti della mitica discoteca di Marina di Montemarciano. Grazie a tutti.